I carabinieri hanno fatto irruzione in una bisca clandestina di Santa Maria Capovetere alle prime ore dell'alba. L'accesso alla sala giochi era protetto da più porte blindate e da anticamere che in caso di arrivo delle forze dell'ordine avrebbero consentito ai presenti di nascondere il denaro e le puntate di gioco. La tempestività dell'intervento dei carabinieri però non ha dato scampo al gestore della bisca, un 62enne di Caserta e ai 19 presenti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, i quali sono stati bloccati, identificati e denunciati. Ora dovranno rispondere di esercizio di giochi d'azzardo e partecipazione agli stessi. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati danaro, contante, assegni e un orologio di pregio per un valore di oltre 45.000 euro, parte delle bangonote da destinare alle puntate sul tavolo di gioco erano state nascoste in barattoli di vernice, in borselli e nella parte posteriore di alcuni mobili. Da Santa Maria a Capovetra è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it